E' una vittoria senza margine di dubbio, quella di Marcelo Rebello de Sousa alle elezioni presidenziali in Portogallo. Il candidato del centro-destra, 67 anni, ha incassato il 52% delle preferenze al primo turno di uno scrutinio che ha visto un'affluenza del 50% degli elettori. E' una vittoria senza margine di dubbio. Il paio da Novoa, che ha raccolto poco meno del 23% delle preferenze. Ancora più distaccati gli altri candidati, tra cui Marisa Mattias del blocco e scherda in terza posizione, esponente ad una sinistra divisa e frammentata. Una sinistra che in queste elezioni ha dovuto fare tra l'altro i conti con la grande popolarità di cui gode De Sousa, professore di diritto, grazie alla sua attività di commentatore televisivo. Tra le prerogative del capo dello Stato, lo sceglimento delle camere, arma decisiva di fronte a un governo socialista che sopravvive sull'instabile alleanza con la sinistra radicale. Grazie. 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 Grazie.